del zucca fritto e non trovacce l'acciuga è una cosa che voglio proprio proprio voglio di andare spedito in armeria e spara a cazzo di cane sui passanti come in quei paesini che finiscono sulle pagine di cronaca perché uno senza motivo ha preso il fucile e ha sparato sulla gente e tutti a chiedersi quando il perché quando il perché è di una semplicità disarmante non ha trovato l'acciuga e ha sfaccolato ha sproccato sono queste le cose che ci spaziano il vino che sente tappo le leguine sciami il riso scotto ecco i disagi che se ripetiti possono farci scelta in piazza è l'Italia questa è l'Italia questo grande paese a forma di spuntatura di magliana è la poesia è la magia dell'Italia mi era convinta che fosse Roma la città dove si mangiava tanto dove si mangiava troppo che fosse questo stato d'animo ministeriale è stato ai tuチons a mangiare il